Seduta tonica per le borse del vecchio continente, che scambiano con un frazionale rialzo. Resta indietro invece la piazza di Milano che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Telecom Italia, più 1,54%. I più forbi ribassi, invece, si verificano su S.D. Microelectronics, che continua la seduta con meno 2,85%. Lieve calo del petrolio, che scende a 73,78 dollari per barile. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Unione Europea, annunciato il PMI Composito, pari a 54,9 punti. Un cenno ai dati macro più prossimi. Domani si attende dalla Germania l'annuncio sugli ordini dell'industria e dall'Unione Europea la diffusione delle partite correnti UE, RIM, mentre in Spagna sarà pubblicata la produzione industriale. Oggi Wall Street è chiusa per l'Independence Day, nel frattempo il future sull'S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.270,5 punti.